Ok, facciamo vedere qualche tecnica, partendo dall'office del ginocchio e di battare l'avversario. Visto che nel giocisto si parte sempre in ginocchio, spesso i pointieri non si sa come procedere. Prima tecnica semplice, come chiamare la guardia 1. Passo avanti, passo l'avversario, mi siedo, con un momento di riferare chiamamento e chiudo guardia. Ok? Per questo lato posso sentire la chiamata di guardia e attaccare armi. Quindi, abbo la gamba, giro e anche le abbo, scivolata, salgo, chiudo, porto i talloni in basso e le abbo. Analizzando la velocità la gamba sale già. Adesso attacchiamo dall'altro lato. Tentiamo la camata di guardia e ribaltiamo con lo blocco a giro. Lo faccio per andare a attaccare e chiamare i palmi a giro. Passo la gamba, mano oltre, blocco dietro l'ascella con il piede, scendo e tiro lato. Passo la gamba, mano oltre, blocco dietro lato. Di nuovo, attacco da questa parte, però l'avversario fa base e non riesco a rimancare. Quindi scendo, taglio lato. Portate il piede dietro l'ascella. Sono stati anche in un altro rando per evitare di fare questa corra. Per il proprio spazio. Uno, due, salgo. Prima tecnica. Parto attaccando questa gamba, levando l'appoggio. Spingo. Quattro mio. Mi faccio girare. Blocco il polso, raddoppio con la mia mano. Continuo a girare il punto alla testa. Giro. Chiudo. Biancio. 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 Questa mano controlla. Marco cerca il babero. Ora posso cambiare. Bloccare il fianco. E tirare. Ok. 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 Ok.